Le giornate dovrebbero iniziare con un bacio, una carezza, un abbraccio e un caffè. La colazione deve essere sempre abbondante. Charles Morrow Schumann Buongiorno, buongiorno e buon sabato 27 febbraio. Parto da un cimeglio che era alle mie spalle, l'ho tolto prima, ed è un cimeglio a cui tengo molto. Manchester-Milan 1969, questo è il gagliardetto che vendevano allo stadio di Manchester. Mia prima trasferta in aereo, Milan perse 1-0, ricordo ancora però, ero spostato abbastanza lontano, il salvataggio di Santin sulla linea, che poi tanto sulla linea non era, con gli attacchi feroci di Charlton e i compagni, con la caduta di Cudicini che si teneva la testa per aver preso una biglia di Ferron sulla testa. E io ricordo, e adesso si torna ancora a Manchester, non so se ci riuscirò ad andare, sto studiando la possibilità, però è molto, 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 molto complicato. Mi piacerebbe ritornare all'Old Trafford, sono stato tante volte, beh, ricordo chiaramente la vittoria contro la Juventus, ma poi anche il gol di Crespo, la doppietta di Kakà, tanti ricordi mi legano all'Old Trafford, sempre affascinante, anche se purtroppo non ci sarà come sempre il pubblico, da maggio qualcosa si potrebbe muovere almeno in Inghilterra, almeno nella Premier League. Il commento l'ho già fatto ieri, avrei voluto evitare il Manchester, sì, sono quelle partite che ti possono dare l'elettricità, che ti possono far cambiare la stagione, però in questo momento difficile sul piano del gioco per il Milan, avrei preferito un avversario almeno sulla carta un po' più malleabile. Però vediamo come arriverà, mancano ancora tanti giorni, mancano ancora tre settimane, anzi due settimane all'11 e tre settimane al 18, magari il Milan riuscirà, anzi senza magari, il Milan deve riuscire a ritrovare quel filone per adesso smarrito. Però il partito col Manchester è una di quelle partite che possono andare alla storia. Passato il Manchester il Milan potrebbe anche sentirsi così forte per andare a vincere l'Europa League. Tutto passa ancora dal teatro, dall'Oltrefford. Se si giocherà là, perché c'è ancora qualche dubbio, ma il Manchester ha giocato l'ultima partita di Europa League nel suo stadio, credo che non ci siano dei cambiamenti almeno riguardo a quello, ma vi do anche questa notizia, le due squadre devono dare comunicazione in tutti i sensi entro il primo marzo. Quindi entro lunedì c'è già l'orario, 18.55 a Manchester, 21 a Milano, però bisogna capire se tutto sia chiaro per quello che riguarda il luogo della partita. Entro il primo marzo ci sarà l'ufficializzazione. L'altro tema della giornata oggi è la conferenza stampa di Pioli. Noi cercheremo di evitargli le solite domande, ma come mai, che cosa è successo alla Spezia, che cosa sta succedendo al Milan, quali sono i problemi. Pioli l'ha già risposto due o tre volte la stessa. Secondo lui è un problema soprattutto di mix tra giocatori che hanno giocato molto in difficoltà in questo momento e quelli che hanno giocato poco a causa dei problemi fisici che non riescono a raggiungere la miglior forma. Questo è un po' il leitmotiv. Poi ci sarà, prima ci sarà l'allenamento. L'altra notizia è che il Milan non partirà oggi, come sempre succede per Roma, ma partirà domani mattina a volo in giornata. Albergo, preparazione della partita, concentrazione Roma. La partita di Roma, uno dei temi è, uno dei temi è, se il Milan in questo momento è un tema invocato, un tema caldo per i tifosi del Milan, se il Milan forse sarebbe opportuno cambiasse modulo, cambiasse schema, cambiasse idea a livello filosofico sul campo. Non più il, ha avuto tanto successo, il 4-2-3-1 inventato, voluto, studiato da Stefano Pioli, che ha permesso la crescita, in dubbia, di che sì, con Benasser, una delle coppie più forti sul piano europeo, che ha permesso l'esplosione definitiva di Cialanoglu. Ma adesso il Milan si può permettere solo due giocatori a centrocampo in questo momento difficile? E due giocatori a centrocampo, nonostante un aiuto non in maniera eclatante in questo periodo del nostro buon Sele Meker, può permettersi due giocatori? Qualcuno proporrebbe, qualcuno vorrebbe dei cambiamenti. Innanzitutto in difesa, dove i corrispondenti ieri da Milanello dicono ci sia la conferma di Chier e Romagnoli. Tomori, indubbiamente, è il più in forma dei quattro centrali, Gabbia rientra da, è in panchina, ma anche lui ha avuto un problema che l'ha tenuto lontano due mesi dal campo di gioco. E dunque, se andrà avanti con Chier e Romagnoli, e questo farà storcere il naso, se fosse vera questa notizia, ma oggi ne saprevo di più, ben inteso, farà certamente storcere il naso a chi vorrebbe un turno di riposo, almeno per il buon capitano Alessio Romagnoli. Però la cosa che più, diciamo, è calda riguarda il centrocampo. E' giusto continuare con i due giocatori a centrocampo, più tre davanti, e Ibra praticamente quasi tre punte e mezzo? Oppure sarebbe più utile compattare, fare qualcosa per rendere più compatto, per impedire che ci siano gli inserimenti dei centrocampisti in una squadra che nelle ultime paride si è mostrata spesso lunga, con ampi spazi per gli avversari. Questo è un po' il punto importante a livello tattico sul quale si discute oggi. I pro e i contro. Il pro certamente con magari Krunic ad aiutare che sì, e Tonali, con magari Cialanoglu e Rebic per il 4-3-2-1, che potrebbe essere il 4-3-1, Cialanoglu, 2, Rebic e Ibraimovic. Quindi meno spazi per gli avversari, un aiutare un che sì in questo momento un po' in difficoltà sul piano del fiato, anche se è finito bene contro la Stella Rossa, permettere a Tonali di giocare un po' con lo stesso sistema del Brescia. Questo sarebbero i pro per un cambiamento di modulo. Il contro potrebbe portare però a una certa confusione per i giocatori, a perdere un po' i parametri sui quali sono abituati a impostare l'azione, a giocare. È un dibattito che in questo momento mi interessa, voi possiate discutere, un argomento su quale mi interessa possiate discutere, un dibattito che potrebbe essere alimentato. Io personalmente, tendenzialmente, sono più per il conservatorismo, l'ho già detto. Forse sarebbe meglio sperare che i giocatori cresca la forma dei giocatori e non perdano i punti di riferimento che hanno permesso ai giocatori di disputare prestazioni eccellenti in tutto il 2020. Però va valutato tutto, Pioli deve valutare tutto. Non si può continuare in caso di... Ecco, possiamo usare una via di mezzo, il medio staff virtus. Partire come vorrebbe Pioli per non far perdere, come ho detto, punti di riferimento e abitudini ai giocatori, ma se si vede una squadra lunga, una squadra dove i giocatori devono rincorrere, io non parlo di Spezia, io non parlo di Inter, io non parlo di Stella Rossa. Io ricordo drammaticamente quel primo tempo contro il Crotone, dove il Milan ha corso dietro la palla col Crotone che la faceva girare, che è stato il primo grande avvisaglio dei problemi che poi hanno attanagliato il Milan anche nelle partite successive. Quel primo tempo è stato un incubo personalmente, con i giocatori del Milan che non lesinavano sforzi, ma continuavano in questo torello organizzato da stroppa. Poi c'è stato il gol, il gol importante, poi nel secondo tempo il Crotone tende sempre a calare un po' e poi c'è stata la vittoria, ma il primo tempo col Crotone è stato veramente difficile. Quindi nel corso della stessa partita Pioli deve stare attento, capire e poi intervenire, magari anche facendo entrare Crunic nel caso che si parta col solito 4-2-3-1, come ho detto, che sarà la più, mi sembra da quello che si legge, l'ipotesi più probabile. Chiudo con una notizia, ieri c'è stata qualche notizia riguardo a difficoltà che possano far sì che non avvenga più, non ci sia più, non venga più studiata la costruzione di un nuovo stadio a San Siro. Ci sono voci in questo senso, le difficoltà da parte della proprietà dell'Inter e quindi in questo senso il futuro è un po' nebuloso. Qualcuno ha detto che il Milan potrebbe cercare magari un'alternativa a Scalo Farini e lo Scalo Farini ha uno spazio enorme dove poter costruire eventualmente uno stadio. Ieri sera mi è arrivata già la notizia. Possibilità che il Milan vada a costruire lo stadio allo Scalo Farini è uguale a zero. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti.